Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video Oggi nuovo video ricetta, visto che me l'avete chiesto, vi accontento Sto per preparare il pranzo e penso che farò i pomodori con riso Perché ho comprato i pomodori già dalla settimana, speriamo che ancora sono buoni Scusate il rumore della moto al sottofondo E niente, quindi li prepariamo insieme, così vi faccio vedere un po' la mia ricetta L'ho provata, riprovata, l'ho provata 3000 volte Non venivano mai come dicevo io, anche perché mia madre li fa spettacolari E cercavo in qualche modo di farli simili Ho seguito le sue indicazioni, ma tanto le mani sono diverse Quindi di conseguenza i pomodori con riso vengono diversi Però ho fatto una mia versione e devo dire è molto molto buona Io non ci metto le patate però, faccio solo pomodori con riso Perché non abbino mai le patate con un altro tipo di carboidrato Anche se poi ogni tanto si può fare Però essendo infrasettimanale facciamo un pochino più leggeri Niente ragazzi, adesso vi lascio il video E farò una video ricetta un po' diversa In senso no, la tipica tutta montata, organizzata Cercherò insomma di farla insieme a voi Un po' cacchiereccia, ecco così Adesso organizzo la postazione E si, cominciamo Accendiamo i fuochi Facciamo come le trasmissioni televisive C'è qua di caso, eh Poi oggi sono molto vintage Anni 50 Allora, eccoci qui in posizione Ho lavato tutti i pomodori Tutti quanti L'ho messo su un canavaccio per asciugarli bene Poi ho preparato il mio bel tagliere E già sto all'opera Sto cominciando a tagliarli Adesso vi faccio vedere uno, eh Ho preparato, vi faccio vedere Una bella teglia Così, a grande capiente abbastanza Con la carta da forno oleata Allora, prendiamo il pomodoro Questo qui Tagliamo il cappellino sopra In questo modo Ecco qua Questo non lo buttiamo, eh Lo lasciamo E poi io metto tutto l'interno Con un cucchiaino scavo Lo metto qua dentro Dove poi lo andrò a mixare Vediamo se riuscito a vedere come faccio È difficile, ma Faccio vedere da qua Faccio così E cerco, insomma, in qualche modo Di svuotarlo E poi tutto il succhino I semini e tutto Vanno messi qua dentro Ecco qua Voilà Quando è bello vuoto Lo vado ad aggiare sulla teglia Con il suo cappellino messo vicino E continuo così con tutti i pomodori Fino ad arrivare alla fine Taglio il cappellino Faccio dei segnetti Così riesco a togliere il centro Più facilmente E poi lo metto qui dentro Ecco la moto di nuovo Non ci fate caso Ma questa è vita reale, ragazzi, eh Io voglio farvi vedere proprio la vita reale No, la perfezione Perché tanto non esiste Ecco qui Vedete? Perfetto Adesso io Faccio tutti E poi continuiamo con la ricetta Allora Ecco qui Siamo arrivati all'ultimo pomodoro Li facciamo insieme E volevo darvi un consiglio Quando li preparate Cuoceteli in anticipo In modo che Quando poi è l'ora di pranzo I pomodori sono tiepiti E non sono bollette Se no non ve li gustate Poi questo comunque è un piatto estivo Quindi va proprio mangiato Non dico freddi Ma insomma Neanche bollentissimi Io lo trovo un piatto comodo Perché quando vado Voglio preparare una cosa In anticipo Magari ho da fare altre cose Lo infilo in forno E quando è l'ora di pranzo È già pronto Allora Li abbiamo sbagliati tutti Adesso vi faccio vedere Come mi sono organizzata sulla teglia Questo lo togliamo per ora Ecco qua Vedete? Ho messo Il pomodoro E il suo cappellino vicino Perché poi Quando li vado A riempire Ho già il suo cappellino pronto Perfetto Ora Facciamo questo Mettiamo Un po' di sale Dentro a ciascun pomodoro Un pochino Ma io ho le mani bagnate Aspettate Ecco qua Un pochino di sale Così Così rilasciano anche Un pochino di liquido Che va bene Quando viene messo il riso dentro Come vedete La teglia è più grande Perché poi Un po' di riso avanzerà E riempirò i buchi All'esterno Perfetto Perfetto Ora Spostiamo un attimo I pomodori Abbiamo questo Vedete tutto il sughino Io all'interno Ci metto Un po' di basilico Già ce l'ho pronto e lavato Qualche fogliolina Così ce la rompo Ce la spezzetto Ok Così Quanto ve ne piace Fate voi Non metto l'aglio Ma se volete Potete metterci anche Dei pezzettini d'aglio A noi non piace tanto Mangiato l'aglio Non metto più che altro Scusate Bambini Per insaporire Ok Messo un po' di Basilico Prendo Il frullatore D'immersione E lo frulliamo tutto Allora Ecco qua Io ho questo qui Pure nuovo Della Kenwood Ognuno ha quello Che è a casa Insomma Io ho adottato Questa tecnica Perché è molto più veloce Potete fare anche Con il Il passaverdure Quello che si gira così Però ci vuole Molto più tempo Per di più Poi il basilico Non si riesce A triturare bene Così è facilissimo Adesso vi faccio vedere Frulliamo tutto Quanto Aspettate Non vi faccio sentire Rumore Se no È un casino Ecco qui Ho frullato Tutto il succo Del pomodoro Insieme ai semini Anche Ho frullato Praticamente Tutto Adesso C'è un passaggio Fondamentale Ciotolina Colino Mettiamo Tutto qui dentro Perché dobbiamo filtrarlo Così togliamo Tutto ciò che è Fibroso Togliamo Tutti i semini Con un cucchiaio È un lavoro È un lavoro Un pochino di pazienza Perché con il cucchiaio Vedete come scende Dovete fare Piano piano In questo modo Così si smuovono Tutte le fibre Semini E fanno scendere Del succo Il succo Questo è l'unico passaggio Che ci vuole Un pochino Di pazienza Però è fondamentale Nella riuscita Della ricetta Come vedete Il basilico È stato triturato Tutto Praticamente Così Insaporisce Meglio E niente Dovete proseguire Fino a quando Tutto il succhino È sceso giù Io adesso Aggiungo Questo Anche Così lo mettiamo tutto Mi piace questa musica Di sottofondo Questa è proprio È vita naturale Proprio Vita reale Vabbè Faccio finta Che siete Dei miei amici Che stanno Qui a casa E mi guardano Mentre faccio La ricetta Purtroppo Quando non vanno A scuola e bambini Questo è il risultato Spero che da settembre Tutto sia molto Più tranquillo Portate pazienza Per favore Ecco qui Io adesso Proseguo Fino alla fine Ecco qui Allora Come vedete Tutto il succhino Sta qui E la parte fibrosa Vedete Questa qui È rimasta nel colino Questo ovviamente Si butta Io la tolgo Poi magari C'è chi la lascia Non lo so Comunque Io La metto via Perfetto Adesso passiamo Al condimento Perché il basilico È titulato dentro Ma mettiamo Un po' di sale Un po' di sale Un po' di sale Un bel po' di sale Ok Poi mettiamo Un po' d'olio Qualche girata Considerate che io Lo sto facendo Per sei persone Ok Mescoliamo Poi io metto Una cosina Che toglie Un po' di acidità Al pomodoro Perché sappiamo Che il pomodoro fresco Purtroppo È un pochino Acidello Metto Non vi faccio vedere Una punta Di cucchiaino Eccolo qua Di bicarbonato Ecco Questa è la quantità Almeno Io ne metto così Voilà Toglie l'acidità E fa digerire Oddio Quello non lo so Però vi assicuro Che l'acidità Lo toglie Proprio tanto Prima usavo Lo zucchero Ma col bicarbonato C'è proprio Un mare di confronto Perché lo zucchero Andava troppo dolce Invece Il bicarbonato Toglie solo L'acidità E resta Il sapore Del pomodoro Intatto Adesso Passiamo al riso Che vado a prendere Aspettatemi in là Ecco qui Ci ho messo un po' di più Perché era chiuso Allora Io uso questo qui Riso Roma Comprato dall'Eurospin Qui c'è scritto Ideale per risotti Devo dire che io Lo utilizzo Per qualsiasi cosa E mi ci trovo bene Perché non squoce Ma non rimane neanche Tanto duro Come al parboiled Quindi lo uso Un po' per tutti Per tutte le preparazioni Allora Io ne metto Un cucchiaio in mano Due cucchiai Per pomodoro Io ce n'ho tredici Quattordici Quindici Quindici Sedici Qui da tutta la contata Qui E giro Ecco qui Stemiamo un po' la cucina Perché è un po' Incasinata Vedete Già Un po' la cucina Ho dovuto aggiungere Altri due Cucchiai di riso Come vedete Adesso Il riso È praticamente Quasi in superficie Quindi vuol dire Che è un po' Di succo L'assorbito Allora Una variante Potrebbe essere Che io di solito Faccio E ci aggiungo Dei cubettini Di asiaco Perché poi Vengono veramente Buoni E filanti Purtroppo Oggi Non ce l'ho L'ho finito Quindi Li faccio Proprio semplice Poi al limite Verrà aggiunto Tanto grana Sopra Perché a noi Ci piace tantissimo Grana grattugiata Comunque Arrivati a questo punto Riprendiamo I nostri Pomodori Con viso I nostri pomodori Li allarghiamo Un pochino Per fare poi Lo spazietto In mezzo Cerchiamo In qualche modo Di sistemarli Senza perderci I loro coperchietti Ecco Cominciamo A riempirli Vi faccio Vedere Uno Vedete Così Ma ci metto Anche il zucchino Perché questo Rende poi Il riso Più morbido Lo metto Qui Li copro Alla fine Perché se c'è Bisogno Devo aggiungere Altro riso Lo metto Ecco qui Così E un po' Di zucchino Così viene Bello morbido Perfetto E così Via dicendo Mettiamo Riempiamo 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 Con il riso Vedete Così 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 già so Quale va E li copriamo Diciamo che Oggi Ho preso Una teglia Un po' Troppo Grossa Però va bene Uguale Ecco qui Copriamo Tutto Eccoli qui Cerchiamo Di metterli Tutti vicini Così non cadono Perfetto Poi Tutto il zucchino Che è avanzato Questo qui Vedete Ne è avanzato Con un pochino Di riso Io lo vado A mettere Tutto intorno Così Vedete Perché poi Si cuocerà Comunque Ecco qua Insieme Ai pomodori Ecco qui Non si spreca Niente Nei pomodori Non entravano Più Perciò Ho deciso Di metterlo All'esterno Ok Fatto Ciò Io Nel frattempo Gioco sul forno A 200 gradi Ventilato Andiamo a infornare Non vi dico La tempistica Ve la dico Alla fine Quando sono pronti Perché purtroppo Varia da pomodoro A pomodoro Anche dalla grandezza Eccetera Quindi io Parto con mezz'ora Poi dopo controllo E mano a mano Aggiungo 10 minuti Comunque Quando li sforno Soccotti Vi farò vedere E vi dirò Quanto Quanti minuti Vanno lasciati All'interno La prima parte Li coprirò Con la stagnola Eccola Eccola qui Come al solito La stagnola Non so perché Si incolla Aspettate Ecco qui Allora Li coprirò Così Per i primi 20 minuti Circa E dopo Li scopro Li faccio finire Di cuocerli Scoperti Così non si bruciano Voila Adesso si inforna Eccoli qui Li ho infornati Adesso mettiamo 20 minuti Perfetto E quando suona Li scopriamo Sono passati 20 minuti Io adesso Ho tolto La carta stagnola L'ho rimessi dentro E mettiamo Altri 20 minuti E proseguiamo La cottura Ancora Vedete Sono comunque Non sono Bene Brustolicchiati Sono un po' Scusate Ma c'è C'è l'ombra E Sembrano ancora Crudi Quindi ci vuole ancora Un pochino Di tempo Allora Così Sono pronti E sono passati 60 minuti Quindi Un'ora Precisa 21 minuti Di coperti Il restante Scoperti Eccoli qua Mamma mia Ragazzi C'è un profumino Sono a fame Comunque Alcuni Si sono scoperchiati Perché poi Vedi Sono caduti Ma insomma Il risultato Dovrebbe essere Questo La versione Con le patate È simile E insieme L'unica cosa È che il zucchino Viene diviso In due parti Una parte Viene messa il riso E nell'altra parte Vengono messe Le patate A insaporirsi E poi Vengono buttate Qui dentro Insieme ai pomodori Quindi La versione Con le patate È molto semplice Comunque Questo è il risultato Speriamo Che sono Anche buoni Adesso Facciamo Un bellissimo Assaggino Perché i cuochi Devono sempre Prima assaggiare Prima di servire Le pietanze Sì sì Certo Certo Allora Eccoci qui Questo è il risultato Mamma mia Ragazzi Che poi Quello che sta fuori Dei pomodori È ancora più buono Assaggiamo Buonissimo Non è manco La di pranzia Quindi sto facendo L'assaggio fuori Extra Assaggiamo Quello dentro Ancora Buonente Eccezionale Provateli E fatemi Sapere Come vengono E se Questa ricetta Insomma Va bene Ricordatevi 60 minuti Al forno A 200 gradi 20 minuti Coperti Il resto Scoperti E questo È il risultato Io vi saluto Al prossimo video Un bacio Ciao Ciao Ciao